Otto anni fa la giovane vita di Mimmo Massullo veniva tragicamente spezzata in un incidente stradale. Il ragazzo, studente dell'Istituto Pilla di Campobasso, quell'anno avrebbe dovuto diplomarsi, ma la prova degli esami di maturità non si è mai presentato. Da allora la famiglia del giovane è prematuramente scomparso. Ogni anno assegna agli studenti di quell'istituto una borsa di studio per sostenere i ragazzi più meritevoli e quelli invece bisognosi. Fortunatamente anche quest'anno siamo riusciti a organizzare questo evento con l'aiuto fondamentale della scuola che si mette sempre a disposizione e noi possiamo solo ringraziare tutta la struttura per il supporto che ci fornisce. La borsa, come ogni anno, ha l'obiettivo di ricordare Mimmo, ma anche aiutando i ragazzi che hanno bisogno di una mano, che sono meritevoli perché studiano, perché si impegnano e questo è solo un piccolo contributo che si vuole dare a questi ragazzi per la loro crescita. Ovviamente una borsa di studio messa a disposizione dalla famiglia. Sì, 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 dalla nostra famiglia. È solo un piccolo contributo, non è niente. È giusto il simbolo per dare ai ragazzi anche una speranza di un futuro migliore, diciamo. Quanti anni sono trascorsi dalla perdita di suo fratello? Sono passati ormai otto anni e il ricordo è ancora vivido, però andiamo avanti e questi eventi ci permettono di trarre nuovo stimolo ogni anno. Il primo anno per lei in questo istituto e ha raccolto un'eredità, quella della borsa di studio, per ricordare la figura di Mimmo Massullo. Il primo anno in questo istituto è un'esperienza meravigliosa. Ogni giorno si arricchisce di sorprese, di iniziative e di stimoli a fare questo lavoro nel miglior modo possibile. Si va ad integrare al lavoro che continuo a svolgere presso l'Istituto Petrone, per cui diciamo che mi sento, sono responsabile di una fascia di età molto ampia che va dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. In merito all'evento odierno lo affronto con una certa emozione, devo dire la verità. Non tanto per l'immagine che fa da involucro all'evento stesso, ma per il messaggio di vita che viene dall'istituzione di questo premio e dalla sua continuità negli anni. Quindi un invito ai giovani a guardare avanti con ottimismo, insomma, ad apprezzare la vita. Ad apprezzare la vita, ma anche ad accogliere il dolore, che diventa un momento esistenziale che tempra ad accogliere poi la vita futura in modo diverso e con un'apertura maggiore.